Torniamo ancora una volta in diretta, sempre Paolo di Guidonia.tv, ripeto Guidonia.tv. Ecco, questo è il parco di Colle Fiorito di Guidonia Montecelio, che è in questo momento di primavera, è abbastanza fiorito. È un piccolo parco che è utile, insomma, per i bambini, anche se non è proprio ben accessoriato di giochi, potrebbe essere forse arricchito con dei servizi, anche di privati, volendo. E notare l'asfalto fresco di tutta questa strada, ecco, adesso facciamo vedere meglio. Ecco, notare, tutta Colle Fiorito, parecchie strade di Colle Fiorito asfaltate. Ecco qua. E qui vedete il parco di nuovo? Ci spostiamo un po' per vederlo meglio. Ecco qua. Bene. Allora, chiudiamo il collegamento in diretta. Ciao.